Si watch la presente sull'isola per le commemorazioni del 3 ottobre. Siamo rimasti perché è successa un'altra tragedia. Siamo rimasti perché non è venuto nessun altro. Ieri abbiamo assistito alla chiusura delle bare insieme alle forze dell'ordine di Lampedusa che da anni lavorano con uomini e mezzi insufficienti. In sei anni, dalle stragi del 3 e dell'11 ottobre, non è stato fatto nulla per creare delle alternative sicure e legali all'immigrazione. L'unica cosa che si è fatto è portare avanti una strategia del contenimento e svuotare completamente il Mediterraneo di navi. L'unica missione europea presente nel Mediterraneo in questo momento lavora solo con assetti aerei. A Lampedusa sono finite le bare. È morta una persona di Lampedusa e si era preoccupati che non ci fosse la bara per questa persona. Ci si sta preoccupando lì dove trovare i fiori per il funerale che si terrà oggi pomeriggio. delle tredici salme presenti. Un funerale a cui parteciperanno anche i sopravvissuti. Noi saremo qui e ci stringeremo tutti intorno a loro mentre attorno c'è silenzio e indifferenza ed è una cosa vergognosa.